Ma perché questa è smidollata? Zia, eh... L'audience, devi tenere la faccia Puttana Eva Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ E' fantastico che non ho mai cambiato questa intro in 12 anni di video Questo videogioco che state per vedere L'ho fatto, l'ho giocato Circa 3 o 4 anni fa Più o meno è stato uno dei primi video del canale E a distanza di 4 anni ho deciso di rigiocare A sta minchiata qua Che mi aveva fatto girare abbastanza le palle ai tempi Vi spiego ragazzi di cosa consiste Magari alcuni di voi avevano già visto il video vecchio Se l'avete visto vuol dire che mi conoscete da 4 anni E se mi conoscete da 4 anni Avete dei problemi seri Io devo cliccare sulla tastiera le lettere corrispondenti Per alzare il braccio E farlo attaccare All'anello corrispondente Io vi giuro, ve lo giuro Nessun compito di aritmetica avanzata O di algebra nucleare Potrà mai essere difficile Quanto questo videogioco Perché porca di una Eva Lercia incastrata nel divano Per attaccarsi ad uno di sti cosi Sembra che tu debba soffrire Tanto quanto un malato di lepra Angosciante perché Porca di una vacca Non so se è più smidollato sto tizio Selena Gomez qua dietro Comunque ragazzi Pian piano io prenderò più o meno il ritmo È la cosa che io volevo Pian piano nel senso Nelle prossime partite Non farmele pesare le cose zio Dai che ce la fai Comunque chi ha inventato sto gioco Deve morire con tutta la sua stirpe Chi ha inventato questo gioco Doveva avere del tempo libero Ma tanto Ma proprio parecchio E io devo averne veramente tanto Per giocarci E ancora di più Considerando il fatto che non riesco a fare Neanche un metro Madonna di dio Quanto è difficile sto gioco Ecco guarda E se tu cerchi Girp Che è il nome del gioco Su Google Appare Girp Sapete che vi mettono le informazioni di Google Dei giochi A destra vi mettono Girp E c'è la mia faccia La mia sclerata su sta merda È stata riconosciuta in tutto il mondo Grazie Google Comunque ragazzi Questa volta è diverso Questa volta ci devo riuscire Perché ho la forza di Selena con me Porca schifosa Laida Z Z Z E siamo arrivati a 3 metri Se ti vuole Fantastico V Perfetto Brava Come farsi le seghe zio È facile Sulla E Bravissimo Ah vedi che non sei un deficiente se vuoi Credo che non sia proprio Il massimo per il tuo fisico Quello che sta succedendo adesso Porca vacca Non ci arrivo per un niente Che sfiga Schifosa Laida Ok attenzione Attenzione Beh cosa ho preso Come fa No No non ci credo Sono un deficiente Madonna che non so tenere le dita sulla tastiera Il Parkinson Indecorosa questa cosa Indecorosa Sono 20 anni che gioco ai videogames E non 22 Quindi fatevi due calcoli Sono 7 anni che faccio video su YouTube E in 7 anni di video su YouTube E in 20 anni di videogiochi Non ho mai trovato un videogioco più squallido Di questa merda Ci sono delle volte in cui dovrei saltare Quindi staccare il mio braccio destro in questo momento Per attaccarmi all'X Il problema è che se non la prendo Finisco nell'oblio Oddio Posso sentire l'orgasmo Quando affermi qualcosa Zio ho un orgasmo Te lo giuro Non posso in 5 anni essere peggiorato Ah già che c'era il piccione Minchia adesso ci divertiamo Ragazzi mi presento il piccione Quel cagapalle incredib... Lì non si tocca zio Lì non mi toccava neanche mia mamma Quando ero piccolo Quello schifoso Che caga sui cornicioni E non solo Si posa su queste cose bellissime Rendendomi impossibile Ditemi voi se non devo eliminare la... Come si chiamava quel gioco Dove sparava i piccioni Che c'era anche il cane Ecco quello Quello era il gioco del secolo Porca Eva Un caccio in bocca Altro che di bala Devi togliere... Zio ti devi... Modonna di quella modonna Ragazzi Qualcuno sa che Qualcuno che sa cucinare i piccioni Per cortesia Mi fa salire il nazismo Ma guarda lì Ma che schifo di essere Ma Noe ti doveva mettere sull'arca Quel giorno Non poteva giocare a scopa Come tutti i vecchi del mondo Lo devo pigliare a calci Per farlo andare via Mi rendete conto? Arca vacca Ax Ajax Subliminale Se si levasse Sto schifo di essere volatile Guarda dove si va a mettere Guarda dove si va a mettere Modifico un calcio Che dio santo In traversa Altro che crossbar challenge Madonna Speriamo che quando pio la patente Voi non vi levate dalla strada Quando accelero Perché Madonna di dio Ve lo giuro Guarda lì dove si mette Ok Occhio L J J la mia lettera zio L e J Sono le mie due lettere Non mi deludere adesso Dai zio Impegnati A parte che sei Ma me lo devo guardare avanti tanto Sto piccione Non puoi andare di sotto Cosa ti cambia Attaccarti a un anello sopra Attaccarti a un anello sotto Attaccarti al calcio Ragazzi siamo quasi a 20 metri Che segnerebbe un record mondiale Oh la madonna Cosa ho fatto WWF vi prego Non guardate questo video Perché sto imprecando Contro un piccion Li sto augurando Le peggio malattie Di satana Ok Che devo fare mo Qua la W la W la W Eh la W non ci arrivo Come ho fatto a fare 40 metri Che vita sociale Avevo 4 anni fa Poi non metterti Dove devo andare io Poi posarti a destra Lurido schifoso animale Guarda Guarda dove si mette Guardalo Guarda dove si mette Il cretino Guardalo Sulla E Sulla E Dio santo Benedetto Datemi un fucile Madonna T'ammazzo T'ammazzo Oddio santo Benedetto Non ci posso credere Ti devi tol Non sulla K Non t'azzaltare Madonna T'ammazzo la madre Vai sulla J Vai sulla J Sulla J ci arrivi Zio Sulla J ci arrivi Tanto adesso ci sono anche I buchi nel muro Fantacolo E se non bastasse Guarda lì dove si è messo Putta Poi non posso neanche Più alzare la mano Se si mette Questo è bello Vaffanculo Poi non metterti Sulla J Grazie Te ne sono grato Comunque ragazzi Dal che all'inizio Non ne riusciva a fare Neanche uno Sì mica che colpo di testa Zidane Dal che non ne riusciva a fare Neanche uno Siamo passati Che sono a 26 metri e mezzo Non vorrei dire Devo fare il doppio Per battere il mio record Però vabbè In realtà Non mi ricordo bene Che quanto era il mio record Se era 41 Se era tipo 50 Lo vado a vedere Quando Cado In realtà Io so che di base Almeno a 40 41 ci sono arrivato Non posso mettere in pausa Per andare a vedere Perché Come mollo le dita Dalla tastiera Questo fa una brutta fine Quindi non posso Mi spiace Arco demonio Ragazzi siamo a 37 metri 37 metri Incredibile Sono qua Non è il modo giusto Per andare avanti Così Bravo zio Perfetto La J La J La J Quanta volta che ho visto La J 39 43 Non ci posso credere La cosa divertente ragazzi Che ho ordinato il sushi Tipo 20 minuti fa Ed è una ventina di minuti Che sto registrando E la cosa Fantastica Che non posso mollare Dattasera Quindi se mi arriva il sushi Come cazzo faccio Ma porca vacca Ma che problemi hai Della Madonna di Giù Madonna Selena guarda Scusami Mi stai veramente Non solo i Ok KKKK Io come ti devo striare male Spero che ci facciano Un giubbotto Con le tue penne Non lo so Non mi viene un insulto peggiore Per un piccione Mi è Vabbè No non devo fare quello che penso No non devo fare quello che penso Cioè devo mollarmi E devo premere Z Però grazie dei scemi Sì Oddio 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 L'ho presa Ce l'ho fatta Non ci posso credere Minchia spero che non arrivi sushi Ma che culo Raga Raga c'è un finale C'è un finale No fermi Fermi c'è il finale Fermi fermi C'è il finale Raga non sapevo ci fosse un finale di sto gioco No 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 Non avevo idea Ci fosse un finale Ma proprio non lo sapevo Dai C'è un C'è un pacco regalo laggiù Merda Sta arrivando l'acqua Merda No Dai raga sta arrivando l'acqua Dai zio Ci sei zio Dai zio Non ci voglio Dai frate 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 Oh Mi devo lanciare ragazzi Provo ci devo provare Ci devo provare Non ci voglio Ti 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 Grazie a tutti.